La tragedia continua a segnare la vita di Caterin Alvarez, la madre della piccola Cata scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023. Dopo mesi di disperazione e ricerca senza esito, Caterin ha ingerito della candeggina, compiendo il suo secondo gesto autolesionistico nel corso dell'anno. Il drammatico episodio si è verificato nella serata di venerdì 10 novembre, quando Caterin è stata immediatamente trasportata in ospedale. La giovane donna peruviana, che ha attirato l'attenzione mediatica per la scomparsa della figlia, aveva già compiuto un gesto simile nel mese di giugno. Questa volta, il tentativo estremo sembra essere stato compiuto nel giorno in cui si celebravano i primi cinque mesi dall'assenza della piccola Cata. Il dolore di Caterin è stato evidente in un messaggio sui social media, chiedo a Dio che si prenda cura di te ovunque tu sia. Perdonami per non essere stata attenta in quel momento. Le parole della madre svelano una profonda angoscia e il rimorso che la tormentano dal giorno della misteriosa scomparsa della figlia. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Caterin Alvarez. La sua storia continua a suscitare emozioni e preoccupazioni nella comunità, mentre amici, familiari e sostenitori si stringono intorno a lei in un momento così difficile. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.